Io non credo che il governo italiano intenda proporre alcun tipo di azione che non sia dettata dalla massima prudenza e dalla considerazione di quello che è il dato oggettivo ad oggi. L'organizzazione che rappresento ne ha fatto un punto cruciale. Siamo in un momento in cui si comincia a vedere la luce. In alcune zone del pianeta, in altre zone la luce non c'è ancora e sono zone che ci sono abbastanza vicine e che possono in qualsiasi momento interscambiare contagio così come è stato nel recente passato. Quindi il livello di allarme è tuttora massimo. La raccomandazione sarà sicuramente in questo profilo, ovvero riaprire parzialmente oggi, quando sarà non oggi oggi, quando ci saranno le condizioni minime e poi progressivamente, ma a distanza di un paio di settimane, procedere con riaperture successive in modo tale di poter contenere la possibile riaccensione della fiammata epidemica a causa della prima o della seconda o della terza riapertura in serie. Si può predisporre una valutazione del rischio di riapertura per classe di lavoro, per tipologia geografica, per classe di età, eccetera. Sempre con un occhio tuttavia alla diminuzione marcata di questa curva di cui parlavo, cosa che ancora non c'è, sempre tenendo presente il fatto che abbiamo comunque una categoria di persone che per età e per esistenti condizioni morbose è particolarmente vulnerabile.